Salve a tutti i miei collezionisti e bentornati su Freddy's Tortin Store, canale di collezionismo dove potete trovare video recensioni come questa che state guardando. Se siete collezionisti iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Io sono Davide e con me come sempre il mio piccolo assistente e oggi siamo qua per parlare di Harry Potter, la doll della Star Race in scala 1-6. Allora è una doll uscita nel 2019 quindi è una doll abbastanza vecchiotta, inizialmente usciva in singolo cioè solo questa parte, poi dopo hanno fatto una versione di Halloween dove hanno aggiunto questo pezzo che contiene degli accessori che poi dopo andiamo a vedere. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a fare l'unboxing. Ok eccoci con il nostro Harry fuori dalla scatola. Allora partiamo dall'altezza, parliamo di una doll in scala 1-6 e lui misura 25 cm, essendo un bambino giustamente è un po' più basso. Allora ricordo che questo è Harry Potter tratto dal primo film quindi la pietra filosofale, infatti come possiamo vedere è proprio un bambino. Allora abbiamo gli abiti di stoffa ovviamente, la tunica chiamiamola così non si può togliere, è cucita qui quindi non possiamo toglierla. Andiamo un'occhiata allo scalp. Peccato per i capelli in plastica quindi non possiamo, cioè a me piacciono di più i capelli in plastica, però in questo caso avendo i capelli in plastica non possiamo vedere la cicatrice. Gli occhi azzurri. Ma secondo me lo scalp non è male. Poi abbiamo sotto la divisa scolastica il maglione, la cravatta, guardate i dettagli anche la cravatta sotto e poi la camicia. Davvero bello il vestito. Poi abbiamo il pantalone e poi le scarpe. Allora una cosa molto bella che sale subito all'occhio sono gli snodi. Dovvero la qualità del body è ottima, ovvio anche quando lo teniamo in mano è bello pesante. I snodi sono ottimi. Possiamo piegare le braccia tranquillamente, su e giù, nonostante i vestiti. Ricordo che c'è una camicia o maione oltre al cappotto sorbato. Il collo si può muovere. Poi abbiamo uno snodo nel petto. Che ci permette di muoverci. Poi abbiamo le gambe. Possiamo aprirle fino a qui, a causa del pantalone. piegarlo così, quindi lo snodo del ginocchio è perfetto. E il piede possiamo muoverlo. Vediamo sotto al pantalone cosa troviamo. C'è il calzino, addirittura, guardate i particolari. Il calzino. E poi lo snodo del ginocchio. Doppio snodo ovviamente. Guardate come riesco a piegare il ginocchio molto bene. La mano ovviamente possiamo piegarla. In gomma morbida le dita. Abbiamo le mani aperte sia a destra che a sinistra. Guardiamo anche sulla divisa. Lo stem della scuola. Il nostro due fondoro. E questa è il nostro Harry Potter. Ok, cominciamo con gli accessori. Abbiamo una mano di ricambio. Quindi la destra può essere cambiata. Con questa e servirà per poter usare la bacchetta. Questa è la bacchetta di Harry Potter. E la possiamo mettere nella mano. Poi il secondo accessorio abbiamo Edwidge. Guardate che bella. È stata fatta con i piedi detti. Quindi possiamo metterla in piedi. Poi come ultimo accessorio abbiamo il cappello parlante. Bellissimo. un gomma. Quindi possiamo muoverlo. Davvero molto bello. E questi sono gli accessori originali del set che comprende la doll e basta. Poi in questa versione che abbiamo noi ci sono anche altri accessori di Halloween che adesso andiamo a vedere. Allora per prima cosa abbiamo la basetta. Quindi nel set degli accessori di Halloween troviamo la basetta. se acquistiamo solamente la doll no. Quindi questa è la basetta che troviamo nel set di Halloween per tutte le ragnatele che ho scritto in porta. Ovviamente il bastone dove poter inserire poi la doll. Poi abbiamo questa roccia che svitando qui sotto si va ad inserire la pila dove uscirà della luce penso qui io adesso non ho provato. Poi abbiamo questa zucca che una volta messa la pila su questa roccia uscirà il fascio di luce appoggiamo la zucca sopra e in teoria si dovrebbero illuminare gli occhi. Poi abbiamo un'altra zucca ancora zucche questa volta tre zucche una sopra l'altra poi abbiamo un un cestino con scritto Halloween con dentro sembrerebbero delle zucche piccoline se non sbaglio e poi per finire due pipistelli in gomma morbida per i pipistelli hanno aggiunto dei ferretti che penso si vadano a mettere qua dentro per poterli tenere su col bastoncino quindi dargli l'effetto del volo ecco e questi sono gli accessori che troviamo in questo set che comprende la doll e il set di accessori di Halloween ok diamo un'occhiata gli accessori allora abbiamo il cappello parlante andiamo ad inserirlo in testa e vediamo cosa viene fuori allora innanzitutto se è indossabile sì e questo è il nostro cappello poi un altro accessorio è questa zucca che praticamente togliendo la testa possiamo inserire in testa come se fosse una maschera ok eccoci con le nostre valutazioni finali che sono ovviamente positive mi sento assolutamente di consigliare questa doll magari se volete evitare gli accessori aggiuntivi evitateli così risparmiate qualche soldo però la doll è davvero fantastica ho trovato un sacco di qualità nella realizzazione dei vestiti degli accessori e anche nel painting non ho trovato un difetto davvero fantastica Jason ti è piaciuta? è l'accessore preferito? cappello edwidge anche quello la bacchetta bello nel complesso è ottimo il cappello è davvero una figata devo dire la verità è stato proprio diciamo che hanno messo pochi accessori ma li hanno messi proprio buoni cioè proprio sono gli accessori che pensi quando pensi ad Harry Potter quindi direi che hanno colto proprio nel centro bene detto questo io vi ringrazio come sempre di aver seguiti fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto oppure no e noi vi diamo un appuntamento come sempre al prossimo video sempre qui sempre con me e sempre con grazie mille e ciao a tutti ciao 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 ciao